Promossa dall'Anmil sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con i patrocini del Senato, della Camera dei Deputati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è celebrata stamani anche nel capologo abruzzese presso l'Hotel Canadian la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, edizione numero 61, giornata che dal 1998 è stata istituzionalizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si celebra tutti gli anni nella seconda domenica del mese di ottobre. La celebrazione, iniziata con un minuto di silenzio in onore di tutte le vittime sul lavoro, si è svolta in due momenti cardini, una cerimonia civile e un pranzo sociale, quale momento aggregativo di incontro, confronto e socialità tra gli associati Anmil. Alla celebrazione promossa dalla sezione provinciale dell'Aquila hanno partecipato anche alcuni rappresentanti istituzionali. Oratore ufficiale della giornata, il senatore Luigi Lusi, vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato. Un anno che ha tenuto il discorso introduttivo dinanzi a una platea davvero nutrita di partecipanti. Durante la cerimonia insegniti del distintivo d'onore 25 invalidi, di cui 22 invalidi minori e 3 grandi invalidi. Presidente, il significato di questa giornata? Per la 61esima volta noi ci stiamo a riunire perché vogliamo, con i 450 mila associati che abbiamo in tutta Italia e i 3 mila che abbiamo nella provincia dell'Aquila e 17 mila in Abruzzo, non vogliamo ribadire che noi siamo tanti e stiamo qui per dire la nostra, per dire che l'invalido del lavoro deve essere rispettato, non solo ma anche il lavoratore che sta sul cantiere deve essere rispettato. Lo spirito della giornata è rimasto invariato in oltre mezzo secolo, sebbene si sia arricchito di nuove legittime istanze. Oggi costituisce un doveroso momento di riflessione sul sacrificio di chi ha perso la vita nello svolgimento della sua professione, nonché un'occasione per rivendicare la centralità dei diritti di ogni lavoratore. La giornata vuole essere prima di tutto un momento di incontro tra le forze vitali della società, per non dimenticare ad esempio che negli ultimi 5 anni in Italia si sono verificati oltre 5 milioni di infortuni sul lavoro, che hanno provocato quasi 200 mila invalidità permanenti e oltre 7 mila morti. E per sottolineare una volta di più che uno Stato civile non può permettere che si creino situazioni discriminanti tra i cittadini, ma deve anzi operare perché qualsiasi barriera venga eliminata e l'handicap che esiste, soprattutto in relazione alle difficoltà che un disabile incontra, tenda a scomparire. La manifestazione vuole essere un unico momento celebrativo, una ricorrenza comune in tutte le province italiane, anche a sottolineare che questo fenomeno purtroppo non conosce confini né provinciali né regionali e deve vedere il nostro Paese unito in questa battaglia per la sicurezza.